Salve, parliamo del vetro utilizzato nella console Lunar. È un vetro da 12 mm che viene poi portato e lavorato a gran fuoco. Grazie all'alta temperatura e alla lunga processa, circa oltre 12 ore e 900 gradi, Fierme riesce ad imprimere nel vetro questa texture, quindi questo decoro. Questo decoro che poi, essendo anche retroverniciato, andrà a creare questo effetto. Come potete vedere, la superficie del vetro rimane liscia, setosa, morbida, come anche lo stesso bordo, grazie a questo alla fusione. Nel frattempo avremo appunto il decoro, come fosse una rete, impressa nel vetro. Grazie quindi allo spessore del vetro, alla vernice metallizzata e al decoro stesso, avremo una finitura materica, profonda e molto brillante.